Ci sono risorse fondamentali e decisive in alcuni comparti che per noi sono strategici. Innanzitutto le povertà, quindi il sociale e le fasce deboli. La sicurezza, intesa come decoro, come manutenzione di edifici pubblici e scolastici, come verde, come ambiente, aumenta concretamente la capacità di riscossione e la lotta all'evasione. Per la prima volta nella storia di questa città viene inserita un capitolo sulle bonifiche, una manovra che non taglia settori strategici come il patrimonio, quindi la casa e la cultura. Insomma, siamo riusciti a tenere dentro un po' tutto. La Giunta Comunale ha varato lo schema di bilancio per il 2014. Si tratta del primo atto di programmazione finanziaria dopo la definitiva convalida del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti. Una manovra da 1 miliardo e 200 milioni, complicata dall'annuncio del governo arrivato lunedì, di un ulteriore taglio di oltre 6 milioni di euro che si abbatte su una programmazione in corso. Posso dire che è stata una mara sorpresa, che mi dicono essere dovuti alla manovra degli 80 euro. Quindi alla fine, voglio dire, sempre torna ai cittadini e ai comuni il tema caldo, è il tema, diciamo, delicato, perché a tre giorni dall'approvazione del bilancio noi abbiamo scoperto che c'è stato un ulteriore taglio secco, duro e inaspettato di 6 milioni e preciso 300 mila euro. 35 milioni per i servizi erogati dalle municipalità con un meccanismo che premia la lotta all'evasione tributaria. Rimodulate le tariffe della riflessione scolastica per migliorare la progressività della spesa e alleggerire il contributo delle fasce sociali più deboli. Previsto al tempo stesso un controllo massiccio sulle autocertificazioni per contrastare gli abusi. Rafforzata la spesa per gli interventi di manutenzione, comprese le strade e la bonifica delle discariche abusive e per il miglioramento dell'ambiente. Con questo bilancio viene anche azzerata al 2013 la vecchia situazione debitoria delle aziende partecipate che risanneranno così i bilanci con effetti positivi sul servizio pubblico. Il Comune di Napoli ha immesso un miliardo di euro nella nostra città. Voglio dare solo questa fotografia. Noi quando siamo insediati i creditori del Comune di Napoli venivano pagati a quasi 4 anni di distanza. Oggi siamo a un anno e mezzo del cronologico e maggio 2014 per i finanziati. Per i finanziati già stiamo a livello sostanzialmente europeo e con le operazioni che abbiamo messo in campo con questo bilancio e con il Governo confidiamo per fine anno, quindi un anno prima del nostro programma di lavoro, di poter arrivare alla media italiana e forse addirittura in direttiva europea già a fine 2014. Il bilancio andrà adesso al vaglio dei revisori dei conti e quindi all'esame del Consiglio Comunale.